Amici, siamo tornati con YouTube su una serie con i miei amici Su un'invasione zombie meravigliosa Come vedete là dietro, il mitico Publac Siamo tornati Sì, famigli Sì Ma questo è sangue? Sì, fa parte della mod Zombie Awareness Gli zombie sono più intelligenti, quando veniamo picchiati lasciamo il sangue per terra che attira gli zombie E tu sei un genio comunque a picchiarmi Vabbè, si asciuga in fretta, ecco però il fatto che adesso mi hai picchiato di nuovo non va bene No, va nel blocco sotto Si asciuga, non lo puoi togliere Vabbè, chi se ne frega, andiamo Andiamo Allora, qual è l'obiettivo di oggi? Ce l'ha già il legno Eh no, lo so, è solo che mi dava una roba di fare... di premere il tasto sinistro per spaccare un albero Incredibile, hai lascia comunque Andiamo Sì, lo so, andiamo Questo bioma fa abbastanza schifo, per i miei gusti Che ne dici? Eh sì, eh sì, sconcordo con te Quindi, cosa facciamo? Cerchiamo di trovarne un altro Per lo meno questo di fronte a noi che gli alberi ce li ha e non sono delle schifezze Ecco, questo è già più interessante di bioma E dietro c'è un altro bioma ancora Madre, che bello Se volete altri video simili lasciate like oppure scrivetelo nei commenti Quanti ne dobbiamo raggiungere? Like Sì Per i nostri budget almeno sei Sei Sei, ci sta Esageriamo? Cinque Allora Se a più di cinque non ci arriviamo Se ci arriviamo Vieni qua Oh, managgia l'auto jump Allora, cerchiamo Io quando saltare, noi mi gioco Sono rimasti indietro Sono rimasti indietro Guardalo là, lui Che è rimasto indietro No Cerchiamo un posto dove far casa Vediamo un po' Vapalo comunque se Crash a discord Mentre sta in registrato Tu sei geniale Ancora di più Io ancora di più Quindi questa è una bella Amici c'è la better combat Te ne siete resi conto Finora Andiamo alla better combat E le hai scaricate le texture pack Che devi scaricare Oh certo Bravo È per quello Ok Ah ma io non li vedo zombie creeper No, no, no Però gli zombie li vedi tutti fatti Sì, li vedo tutti fatti Perfetto Hai scaricato bene le texture pack Cosa devo fare? È pieno Ma tu combatti? Non voglio combattere Diciamo che è pieno di gente Quindi andiamo via Sali su Andiamo via Andiamo via È in hard questo mondo? Hard, sì È in hard È geniale Io sto già morendo di fame Stiamo correndo E mi mancano sei cosciotti E il punto è che siamo nati in un bioma un pochino così E non so bene dove andare in questo momento Io ti seguo Perché non ci sono animali Ci sono degli elefanti Bene Dove? Da dove? Sono Stavo per cadere anch'io Mi avevo detto No, non picchialo E' quanto picchia? Eh, voglio vedere però se ci dà della Ciao L'elefante picchia L'elefante picchia Io non li picchierò mai 3, 2, 1 Via Ok Siamo tornati Non è successo niente Assolutamente niente No, assolutamente niente Non è assolutamente successo che un elefante mi ha schiacciato la cassa toracica Lì c'è un villaggio Wow, che bello È del cibo Tiè Andiamo dal villaggio Ti seguo eh Ah, lasciamo seguire se vuole seguire Qua c'è un delfino Cos'è sto schifo? Pensavo fosse un delfino, ma cos'è? Non lo so, ha dato carne Ma non ci interessa perché c'è il villaggio che sarà una fonte di cibo primaria Andiamola al villaggio, se è Sì, fonte di cibo primaria Dobbiamo fare una fortezza come casa, lo sai, no? Sì, sì, una fortezza di legno No, di mattone Perché di legno? Perché più resistente Io prendo il grano Il legno Il legno, il legno, capo Mi dai il legno Questo qua, dici? Cos'è questo rumore? Che che ha sgracchiato E lo so, ma non volevo usarlo 54 diviso 3 fa 18 C'è uno zombie un po' esotico qua vicino Lasciato stare Ho 18 Qua c'è un fabbro Sì, 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 qua c'è un fabbro Vediamo cosa ha nella cassa No, non lo so Cosa c'è, ma da me Interessante Cos'è che hai Sui tappo Ma hai già preso un'armatura in ferro? Sì Il fabbro aveva l'armatura in ferro Io intanto mi faccio No, 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 no Mi voglio fare il golem Ok Magari mi dai Il fabbro Dammi blocchi Dammi blocchi per favore Dammi la spada in ferro Ma tanto adesso uccidi il golem Ah, vabbè Direi di spostarmi un po' più verso di qua Vai, fai il golem Non ci arrivo, mannaggia lui Ok Stoffi Con la Better Combat il colpo critico non esiste Inutile che salti E infatti non Non sto saltando Ecco Non Te lo metti Ok 4 di ferro Non è che Non è così Scontato che gli a 4 di ferro Di solito ne da 3 Almeno quando li spacco io Però con 4 di ferro non c'è Bene degli stick Grazie capo Io ho fatto la spada anche tu che ci servirà Ah Poi dobbiamo trovare anche molto ferro Perché Sorpresa delle sorprese Non c'era già steno di items come mod Sono un idiota Sei un genio Non mi sono accorto Sorpresa delle sorprese Ci sono le armi da fuoco Wow Incredibile E quali le MS Quali sono queste mod Non ti risponderò Diciamo Ai nostri spettacoli Uno scudo conviene farselo Bastardo Sì Mi spaccato la crafting davanti agli occhi Quindi stavo craftando Mi faccio uno scudo E mi conservo Prendi la tua crafting Che io ce ne ho Ce ne ho un'altra Incredibile Anche se Mi sono senza armatura Comunque la better combat mod Diciamo che Conviene A momenti Perché Per allontanare i mob E hai Vicino C'hai la Lascia armata Sulla mano Non è che sia la cosa più comoda del mondo A me scava un attimo Il carbone di là Sì ma io ho l'optifine Quindi Illumino tutto Però il carbone ci serve in ogni caso Sì sì vabbè Certo Ovvio Che domande fai Ok Ok Ho già in mente un'altra mod Da aggiungere in questa mod Perché lì c'è sangue? È perché lo zombie Mi ha tirato uno schiaffo fortissimo Eh Magari ti svegli Adesso ti ammazzo No non puoi Invece posso C'hai fuoco amica Eh vabbè Io posso chiedere quest'acqua Che ha rotto un po' le scatole Sì sì sono d'accordo In extremis si butta Quante diventa però non andarsene Ok ci siamo Allora dobbiamo iniziare a scavare un po' i materiali Per farci la 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 fortezza Sì Ma direi di coble Come? Di coble Cobblestone Sì viene carina E poi a me piace Ma dove sei? La muraglia La muraglia attorno di Cobblestone Sì sì la muraglia di coble Ma dove sei tu? Ah ecco Scusa Allora Farmiamo un po' di coble Magari qua O facciamo un timeline In questo modo io Sì qua facciamo un bell'upstime Facciamo un po' di cobblestone Facciamo un po' di cobblestone Quanta cobblestone hai? Due stack Anch'io Incredibile Direi che possiamo iniziare a fare la cinta muraria Sì Mi dai Tu vai a Anzi uno dei due farm ancora E l'altro costruisce Io vado a costruire Però mi devi dare tutta la cobblestone Vabbè Ora si scopre chi ha raccolto solo 20 blocchi No Non sta che mezzo Ma comunque Ok ok Far vedere nel video che si costruisce Magari lo faccio io Allora andiamo insieme dai Esatto Ok Allora dobbiamo decidere Amici da casa Dobbiamo decidere dove fare La nostra mega fortezza Qua ci sono dei maialini Direi di ammazzare di brutto Incredibile Ha troppo senso Perfetto È più facile del solito ammazzare i maialini Ma tu ci stavo per perdire E con la better combat in ogni caso puoi tenere premuto Esatto Quindi più comodo Allora Però Comunque dove possiamo farlo? Questa Non mi ricordo che roccia è Questo è tutto Questo è tutto È che adesso sono abituato a giocare in 1-12 con le mod perciò mi dimentico Cos'è sta roba? Ammazziamola Ma Giovanna Ma sei proprio tu Giovanna Guardala La fan Piccolo piccolo Proprio mi è tolto Mi è tolto Potessi Uga puga Uga puga Uga puga Uga puga Vieni una zappa Eppure un letto Uno dei due esce e dorme Esci Esci Oh 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 Dormiamo Dormiamo Entra No qua Non è tanto un punto strategico Per fare la Oh sì perché siamo in riva un fiume Dobbiamo stare in un'altura Allora mi sa che non è per niente un punto strategico Abbiamo un fiume vicino Eh qua c'è l'altura Anche un'altura del genere va bene Che altura? No purtro No non è vero Non è vero È una caccata Eh no L'aggianatura andiamo Eh tu hai la rendere distanza alta Forse Ok Abbastanza Eh ci abbiamo uguale In realtà Quindi Sono io che sono cieco forse Ah la vedo ora l'altura Che chiudi falco Che c'è Allora non ce l'abbiamo uguale Non ce l'abbiamo per niente uguale In realtà No Manca mezzo cosciotto Non lo spray con pane Per quello Invece dovevi sprecarlo No Meglio per un cosciotto Come altura va bene questa? Iniziamo a togliere qua questi perché la sta prendendo fuoco oh oh hai due di ferro qui c'è una pozza di lava possiamo fare il trick e tetracchete del portale sì ma andare adesso nel nether non ha molto senso aiutami invece a togliere tutta la terra qua per fare una mi faccio una pala sì ma a me invece l'ha droppata naiga sì quella tipa che abbiamo ammazzato era così pacifica poverino non ha nemmeno contraattaccato esatto mi metterei una musica triste in quel momento sì sì come viene saccagnata male questo video esce domani comunque ok queste parti di cui parliamo verranno sicuramente tagliate oppure sarà un timelapse dove non si sente niente ok perché sto spaccando questo collage direi che possiamo fare il timelapse secondo me sì ok qua è già una zona molto meglio con ma direi di modificare e rendere a nostro piacimento il terreno qua sì ma ovvio il terreno è minuscolo in questo modo però perciò per l'appunto dobbiamo modificarlo amici se non avete visto il video dei minecraft 1.0.0 0 1.0.0 è andatevene a vedere perché è interessante bello e dovete capire e potete capire anche come è nato minecraft dato che la versione originale 1.0 proprio e il minecraft che conosciamo tutti noi oggi andatele vedere perché è molto bella sono solo in un mondo privato però è un po' noioso devo dire non è nei video dove c'è il mitico puglac che ci mostra le natiche non è che le natiche ero dietro di te e ti ho fatto lo zunco all'optifine e risciptato oh è già più grande comunque eh ma va siamo stati qui dieci minuti a tirare sulla terra direi però che secondo me per il momento va bene lo sai facciamo anche un angolo coltivazioni qua dentro pavolo mi sistemami qua che non la sopporto sta roba però con il tempo si espande qua mettimi un blocco di terra qua cosa? l'avevi finita qua andiamo allora ora facciamo proprio il perimetro di tutto il quadrato iniziamo con la coble iniziamo con la cobblestone scusa ora impazzisci inizia a gridare come lo shy guy a proposito di shy guy esatto il video sullo shy guy per l'appunto eh sì bello fare tipo il fast bridge così davanti esatto ho già in mente due nuove mod da aggiungere se questo video raggiungerai 5 live ragazzi saranno mod bellissime che Pablo non mi ha detto però saranno di sicuro bellissime perché Pablo ha bei gusti esatto alziamo di due io alzo di qua tu alzi di là io vado già ad alzare da questo punto perfetto io ho altri 27 di cobblestone in serial adesso direi di fare una cosa un po' rustica come le patate no un po' esotica sì cioè volevo fare tipo che alziamo tipo un po' con delle slab non dovunque per fare l'impressione esotica e poi dopo facciamo un muretto che va avanti cioè questo è un muro primordiale diciamo la prima idea e perciò poi faremo un muro che va sì sì avanti avanti che avanza ai della renderemo il tutto più grande del legno da me che faccio una bella porticina aspetta che finisco le slab ok amici direi che per questo video può andare bene diciamo può andar bene può andar bene il prossimo comunque uscirà presto perciò non lasceremo nessuna abbiamo tre serini si è speso per ora stiamo andando bene ok il legno per favore non sopporto di vedere questo spazio vuoto grazie grazie ho già idea di come farlo adesso lavoro sulle mod da aggiungere quindi amici se avete visto questo video e non avete lasciato like innanzitutto pezzi perché noi lavoriamo tanto per fare questo per fare questo va bene lo stesso per fare questi lavori è vero non lo so però io soprattutto con le mod faccio davvero ore di ricerca sì ma direi anche di finire no sto mettendo una porta sul retro comunque direi di finire qua questo meraviglioso video quindi ci salutiamo tutti e dal vostro pinguino e dal vostro Publac lì dietro che sta mettendo le fornaci ciao ciao girati addio ciao a dire alla prossima